Siamo alla vigilia di una pronuncia molto importante della Corte Costituzionale sulla legge elettorale, sull'Italicum, che si ottiene grazie alla mobilitazione di professionisti, di avvocati e non per l'iniziativa politica. Questo come lo commentate e cosa vi aspettate dalla decisione della Corte? Certo è importante che tutto questo accada perché c'è stata una spinta all'albasso di tanti avvocati che si sono mobilitati, ovviamente sostenuti anche dalla società civile, dai comitati locali, non sono soltanto professionisti che vanno a presentare le carte bollate, c'è un movimento di opinione che sostiene questa iniziativa davanti alla Corte. Noi come coordinamento per la democrazia costituzionale la giudichiamo molto positiva e molto importante, ovviamente non puntiamo solo su questa perché capiamo che poi le variabili davanti alla Corte sono molte, bisogna vedere la Corte come si orienta, se come noi speriamo in una piena conferma della pronuncia 1-2014 sul Porcellum oppure no e comunque c'è un dibattito politico da seguire nel quale noi saremo ugualmente presenti perché è in parallelo rispetto alla Corte ma non si sovrappone al dibattito in sede giurisdizionale. In questi anni si sono costruite leggi elettorali ad hoc per gli interessi politici immediati, si dice addirittura che l'Italico in fondo non dispiace al Movimento 5 Stelle quando invece il Movimento 5 Stelle si batte per il no alle riforme costituzionali. Come si può fare una legge elettorale che invece serve al Paese e alla democrazia e non all'interesse immediato di qualcuno come il Presidente del Consiglio o l'opposizione attuale? Guardi, questa legge elettorale è stata fatta nel modo peggiore possibile perché è stata fatta dichiaratamente nell'interesse di quelli che allora erano i due maggiori partiti per semplicemente far fuori i piccoli partiti, i partiti fastidiosi, l'hanno detto, è stato dichiarato con un'anime consenso nel patto del Nazareno da Renzi e da Berlusconi nel momento di stipularlo. Non si fanno leggi in questo modo e anche il discorso sui 5 Stelle non va bene perché allora i 5 Stelle potrebbero volere l'Italico nel momento in cui stanno un punto in sopra per l'eventuale ballottaggio nei sondaggi. E se adesso con le vicende romane scendono un punto sotto, che fanno? Sono contrari? È chiaro che non si fa così una legge elettorale. La legge elettorale deve guardare ai valori permanenti, per così dire, la rappresentatività, se si vuole anche la governabilità, ma non di chi in quel momento governa, in quel momento comanda. Quindi deve essere una legge che consente, che riflette il Paese, che lo rappresenta, che consente alle voci presenti nel Paese di esprimersi e che consente lo sviluppo del sistema politico senza forzature. L'Italico è il contrario di tutto questo, per questo non va bene. Voi volete una nuova legge, ma pur un Parlamento la deve approvare. Preferite che ritorni in vigore il Corsutellum, un proporzionale puro. In altri Paesi, quando si è arrivati a questa questione, come in Spagna, non si riesce a trovare un governo. Quale legge dovrebbe leggere un Parlamento legittimato a fare una legge giusta? Guardi, forse lei non sa che la legge spagnola vigente, qualche anno fa, fu presa a modello del top delle leggi elettorali che andava adottato anche nel nostro Paese da chi oggi sostiene l'Italicum. Oggi è chiarissimo in Spagna che nessuna legge elettorale garantisce la governabilità al 100% e soprattutto garantisce che la sera che si vota si sappia chi vince. Questo è purtroppo il mantra che ci ha rovinato perché ci ha condotto su una strada senza uscita dalla quale adesso ci troviamo. Io personalmente da molti anni sono favorevole a un sistema come quello tedesco che mi pare garantisca assolutamente stabilità ed efficienza del sistema dove ovviamente nel momento in cui le cose si sono evolute politicamente hanno fatto una grande coalizione e la mandano avanti senza rammi. Poi arriveranno, supereranno questa fase e torneranno a un sistema di alternanza bipolare. Bisogna fare leggi e avere istituzioni che consentano l'elasticità e il cambiamento perché se no qualunque altra scelta finisce con l'andare della storia ad essere la scelta che porta il Paese a sbattere. Infine questa legge elettorale sarà giudicata sulla costituzionalità. Chi ha giudicato sulla costituzionalità nella precedente corte costituzionale era anche l'attuale Presidente della Repubblica che ha promulgato questa legge come costituzionale. Voi aspettate che questo influisca sulla decisione degli attuali giudici? No, io auspico che non influisca. Il fatto che il Presidente della Repubblica, Mattarella, abbia dato il disco verde all'Italicum non lo considero un elemento decisivo perché da Presidente della Repubblica Mattarella ha considerato se ci fosse non una qualunque incostituzionalità un dubbio di incostituzionalità ma una manifesta incostituzionalità. Questa è la formula che la Prassi conosce. Quindi in questo senso si può dire che non ha riscontrato un vizio di tale immediata evidenza da giustificare un rifiuto di promulgazione. Il fatto che abbia dato il disco verde non dovrebbe incidere in un corretto svolgersi del rapporto istituzionale su quello che la Corte Costituzionale deciderà. Noi ci speriamo, abbiamo fatto un ricorso perché ci credevamo, organizzare ricorsi in 23 tribunali come dispendio di energie, coordinamento, sono quasi un centinaio di avvocati complessivamente coinvolti e ci sono buoni motivi, torno solo che c'è una cosa che a differenza del Porcellum che questo è più ipocrita o più furba. Cioè questo avete dovuto agire voi come società civile, come professionisti, come giuristi, come cittadini italiani eppure ci dovrebbero essere delle garanzie nel processo legislativo a partire dalle commissioni parlamentari dalle votazioni sulla costituzionalità nel Parlamento, a partire dal visto di costituzionalità del Presidente della Repubblica ci dovrebbero essere i partiti stessi che dovrebbero garantire la costituzionalità delle leggi. Voi come vi siete sentiti soli? No, soli no, perché abbiamo avuto i ricorsi in sede locale, sono stati firmati da diversi parlamentari in un caso di scelta civica, Perugia, e poi generalmente c'era sempre un deputato, un senatore dei 5 Stelle e di sinistra italiana, perciò non ci siamo sentiti da questo punto di vista soli. E' il problema in generale dei partiti in maniera generica, io spesso dico i partiti sono andati.